Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi proviamo assieme alcune cose che avete visto nel video all sul pre-Black Friday, ma anche una cosa che in realtà fa parte del video all Black Friday, e si tratta di una palette occhi. Ve la faccio vedere prima di farvi quel video all Black Friday, semplicemente perché è un'edizione limitata, anzi ci ho già messo troppo tempo a farvela vedere, e quindi in caso voleste prenderla, foste indecisi, ecco, forse è meglio che ve la faccio vedere un po' prima. E sto parlando di questa palette qua di Dior, che è la 5 colori, uscita come edizione limitata appunto, insieme ad un'altra, che fa parte della collezione dedicata a dei giardini parigini, che non vi sto a nominare, perché per me sono impronunciabili, comunque ha sempre i due pennellini che tolgo, perché mi danno fastidio, e questa è nella colorazione 543 Promenade Doré, ed è questa qua, eccola qua, io non la volevo prendere, non era proprio nel mio radar, purtroppo sono finita da Sephora, l'ho vista, e complici gli sconti del Black Friday l'ho presa. Comunque questo è il packaging nuovo delle palette di Dior, quelle riformulate, questo invece è quello antico, un po' più vecchiotto, prima che fossero riformulate queste palette, la scritta è in stampatello minuscolo, in queste nuove invece in stampatello maiuscolo, e poi cambia la chiusura, vedete qua c'è il simbolo di Dior, e qua invece c'è il simbolo, ma c'è questa barra cromata, che prende tutta la lunghezza della palette. Questa collezione celebra la maestosità dei giardini di Parigi, amati da Christian Dior. Gli ombretti sono decorati con un motivo delicato, è una palette occhi dai riflessi bronzo e oro, esaltati da una sfumatura argentata. Per questa collezione sono uscite due colorazioni, questa qua appunto Promenade d'Oré, ce n'è una seconda che si chiama 043 Night Walk, sì, 043, che invece è più sui toni del grigio con al centro, qua c'è un argento, mentre l'altra ha al centro un colore dorato. Non so quanto si sia visto dal close up, spero che sia visto bene, comunque questa palette ha tutti questi embossment sulle cialde, che a me ricordano un po' lo stile barocco. Comunque, niente, è molto molto carina, molto natalizia, perché appunto ha tutti questi colori sull'oro, sull'argentato, con tutti questi sbrillucci chi. In questa palette non sono presenti matte, sono tutte cialde luminose. Questi due qua più scuri, un po' meno, sembrano quasi dei satinati, mentre questi tre hanno tutti dei micro micro glitterini. Comunque sono ombretti con una texture molto molto sottile al tatto, anche quelli più luminosi. Per questa palette utilizzerò il set mini di Refre, che è uscito da poco. Ah, tra l'altro vi avevo detto che era andato sold out. Io l'ho visto di nuovo in questi giorni sul sito, però sono presenti e acquistabili, credo, solo in set, non singolarmente. Tra l'altro mi è arrivata una mail ieri, dove gli sconti del 50% sul sito di Refre sono ancora attivi, quindi vabbè, io ve lo dico. Comunque, sono questi cinque qua. Cioè, come vi ho detto, il numero uno, due, tredici, quattordici e quindici in versione mini. Come primo colore vado a prendere questo qua, più scuro, che vi ho detto, non è un matte, ma è un satinato. E lo vado ad applicare nell'angolo esterno su entrambi gli occhi. Non farò due occhi uguali, ve lo dico, perché voglio farvi vedere per quanto è possibile i colori di questa palette bene. E quindi faremo due look diversi, leggermente diversi, non chissà che cosa. Comunque sto applicando questo colore nell'angolo esterno con il pennello di Refre 01 Mini. Lo 01, vi ricordo, che è il pennello da sfumatura, perfetto per l'angolo esterno, che dovrebbe assomigliare al 2,17 di MAC, che io non ho mai avuto. Quindi ve lo dico per sentito dire. Questo qua, essendo più piccolo, è naturalmente più preciso. Però, secondo me, non permette una così ampia sfumatura come il numero uno normale, classico. Però io devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene con questo pennello. In questo set è uno di quelli che mi piace di più. Vi anticipo che i miei preferiti di questo set sono il numero uno e il numero 13. Di queste palette ho preferito acquistare questa perché quando l'ho presa mi era arrivata da poco la Xenon Palette di Natasha Denona e quindi non mi sembrava il caso di prendere un'altra palette prevalentemente grigia. A me questo marrone piace tanto. È un marrone abbastanza scuro per intensificare l'angolo esterno. Non è eccessivamente caldo per quanto mi riguarda, però una piccola punta di caldo c'è. Non è una cosa eccessiva che dà fastidio. Il colore più caldo di questa palette è sicuramente questo bronzo dorato. Adesso invece vado a prendere quest'altro satinato qua, che appunto vi ho detto è quello leggermente più caldo di questa palette. Vado con il refro numero 15, sempre nella versione mini, a sfumare i bordi del marrone più scuro. Questo appunto è il 15 mini. Rispetto al... Anche lui rispetto al 15 normale è leggermente più preciso. Non mi dispiace, però non lo trovo così indispensabile. Non che l'uno mini lo sia, però non lo so, lo trovo più particolare rispetto a questo. Questo al contrario dell'uno è un pennello da sfumatura più ampio, mentre l'uno è un po' più schiacciato ai lati. Vi ho detto che vorrei fare due occhi diversi perché voglio farvi vedere due colori diversi, come performano e anche l'effetto che danno su tutta la palpebra. Li applico prima con il pennello, perché una cosa che ho notato utilizzando questa palette in questi giorni è che la resa, se si mettono col dito o col pennello, è molto molto diversa, soprattutto per quanto riguarda l'argento. Parlo di resa, ma parlo anche di colore. Inizio a mettere questo beigolino più chiaro ed inizio a metterlo prima con il ref numero 33, sì, è lui. Comunque il mio pennello preferito per applicare gli shimmer sulla palpebra. Vedete questo doratino, sì, però ha del beige all'interno, non è completamente giallo, cosa che a me piace molto. Se messo con il pennello, non so se notate, ha una pigmentazione... Non dico che non abbia una pigmentazione intensa, però l'effetto è molto molto naturale. Questa differenza tra pennello e applicazione con il dito si vede soprattutto però nel colore argento. Adesso vado ad applicare lo stesso colore, però questa volta con il dito. Con il dito risulta più pieno, ma anche più luminoso. Vado ad intensificare ancora un po' l'angolo esterno con il marrone più scuro. Su questo occhio qua vado invece a mettere l'argento. Inizio appunto prima con il pennello. Le cialde spolverano un po', cioè fanno kick up, quindi scaricate bene il pennello prima di applicarle. Però poi sull'occhio, quando lo applicate, non danno fallout. Ecco l'argento steso con il pennello. Sembra quasi bianco, quasi trasparente. Effetto anche qua, molto naturale. Se invece lo applichiamo con il dito, viene fuori proprio il colore argento. Con questo colore vi ho detto che è appunto molto evidente la differenza rispetto all'altro. Intensifico ancora un po' anche da questa parte, l'angolo esterno, con il marrone più scuro, RF01 Mini. E con il RF numero 15 vado a sfumare bene i bordi, senza aggiungere colore. Sia da una parte che dall'altra. Non metto ancora la matita nella rima superiore interna, cosa che io faccio sempre, perché voglio farvi vedere all'azione un mascara. Ma prima vado a mettere invece questo Cupids Arrow di Nabla nella colorazione 2, il marrone, il primo uscito, il primo uscito che mi sta finendo. La metto nella prima parte, cioè la parte più esterna della rima interna. Poi di nuovo con il marrone più scuro, ma questa volta lo applico con il 13 Mini, sfumo la matita nella rima inferiore. Tiro un po' all'esterno anche e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Questo pennello qua, essendo molto più piccolo del 13 Classico, è perfetto per i dettagli sia nella rima inferiore, ma volendo anche nella rima superiore. Non sfuma granché perché è piccolino, però permette ad esempio nell'arima inferiore di non scendere troppo. Come punto luce vado a prendere poi il colore più chiaro, che è sempre nello stesso finish sia dell'argento che di questo beige dorato. È un color panna burro giallino. Molto molto carino, da usare appunto nell'angolo interno, ma volendo anche su tutta la palpebra, lo vado ad applicare con lo 02 Mini. Questo pennello qua va bene per i dettagli, è un pennello d'applicazione più piccolo appunto del suo fratellino classico. Io non mi trovo però ad applicare l'ombretto su tutta la palpebra, come invece faccio con il 02 Classico perché è troppo piccolo. Cioè va bene volendo applicare un colore più scuro come dettaglio, sì, ma lo shimmer su tutta la palpebra no, cioè ci metterei delle ore. Però ad esempio appunto o l'angolo esterno o l'angolo interno, oppure anche nella rima inferiore questo va benissimo. Rispetto al numero 2 Classico non lo trovo così indispensabile, ecco. Nella prima parte della rima inferiore di quest'occhio vado ad applicare, anche qua sbattendo ben prima il pennello, vado ad applicare il colore argento, sempre con lo 02 Mini di Refra. Si potrebbe anche applicare il colore che abbiamo messo sulla palpebra e volendo, però. In questo senso questa palette è molto versatile, nel senso che si riescono a fare look abbastanza diversi tra di loro. Ah, di qua ho messo l'argento, volevo mettere l'altro. Vabbè, proviamo a metterci sopra l'altro e vediamo cosa avviene. Pulisco il pennello, mi sono fatta prendere dalla chiacchera. Comunque vado appunto con il beige dorato, quello che abbiamo messo su tutta la palpebra, sull'altro occhio. E adesso qua c'è un misto. Ecco qua un pochino più di fallout c'è, ma sono dei micro micro glitterini. Se non lo volete e se avete la penna di Pat, quella in stick, mettete un po' di quello stick qua nell'arima inferiore, poi andate con l'ombretto e vedete che non avrete fallout. Vi ho detto che volevo farvi vedere un mascara, sto parlando di uno che avete visto appunto nell'ultimo video haul, ed è il FanFest di Benefit, che io sto già utilizzando da un po'. Non mi dispiace, anche se per me ha qualche problemino, almeno sulle mie ciglie. Ha questo scovolino banana, io non li ho mai amati questo tipo di scovolini, perché li ho sempre trovati difficili da usare. Lo scovolino appunto in setole, quelli in setole non sono neanche i miei preferiti, quindi sulla carta questo mascara a me non doveva piacere, però ho visto un sacco di recensioni positive. Adesso cercherò di metterlo senza mettermelo negli occhi. Comunque, è abbastanza facile da utilizzare. Dovrebbe avere un effetto allungante, ma anche volumizzante. Su di me lo trovo più che altro allungante. Separa bene le ciglia, questo assolutamente sì, non fa grumi, assolutamente vero, ciglia ventaglio, però non particolarmente volumizzate per quanto mi riguarda. Il mio problema con questo mascara è in realtà che mi spezzetta durante il giorno. Dovrebbe essere water resistant, infatti a me non stampa su questo ok, però spezzetta. Anche se non faccio grumi in applicazione, se ne metto poco, qualcosina, anche microscopica, la trovo sempre. L'effetto mi piace, ma questa cosa non tanto. Ho provato a metterlo sulle ciglia inferiori e lì mi stampa. Però lì mi stampano tutti, cioè non ho ancora trovato un mascara a parte quello di MAC, il Giga Black, che non lo faccio. E ho fatto una prova così, ma mi ha stampato. Inesorabilmente. Però è molto facile da mettere sulle ciglia inferiori. Se voi invece non avete questo problema con le ciglia inferiori, mi consiglio di provarci perché è veramente facilissimo. Vedete che dà un effetto allungato, moltiplicato sì, nel senso che le ciglia sono ben pettinate, ben aperte. Sembrano un pochino di più, però l'effetto volume sulla banda io non lo vedo. E questo è l'effetto con una prima passata. Adesso faccio una seconda off camera perché se no ci mettiamo delle ore e vi faccio vedere il risultato finale. Non so se notate, ma ha già sgranato. Lo tolgo con il pennello da cipria. Il problema è che mi sgrana anche durante il giorno, si fermasse a questo momento, ok, andrebbe bene. Lo tolgo e amen. Per dare un po' più di volume alla base vado ad utilizzare la matita, questa qua è quella di Charlotte Tilbury Bedroom Black, appunto nera, nella rima superiore interna. Questa cosa non mi piace farla dopo che ho messo il mascara, ma volevo farvi vedere bene l'effetto. Ok, dopo le vado a pettinare un po' perché quando si fa questa cosa, prima di mettere, cioè dopo aver messo il mascara, poi le ciglia si spostano tutte in posizioni strane. Rimetto in posizione le ciglia con lo scovolino, ho sentito cadere altri grumi. È strano perché non ce ne sono, cioè con il pennello da cipria tolgo i grumi che sono volati giù pettinando le ciglia. E mentre mi stavo mettendo il mascara mi sono ricordata che ho dimenticato l'eyeliner. Infatti volevo farvi vedere questo eyeliner, questo anche l'avete visto nel video haul, questo l'ho preso su Stylevana, è di Mercy, è nel colore Coffee Bun, è un marrone chiaro, leggermente caldo, è un colore che io faccio difficoltà a trovare nei mascara. Eccolo qua. Comunque sono riuscita forse a capire che ha una punta in setole, non ne sono sicura, però da quello che ho letto in giro, forse una punta in setola. Scusate questa mia ignoranza sugli eyeliner, ma io veramente non li capisco, faccio difficoltà ad usarli, li uso poco. Questo qua devo dire che sarà una settimana che lo sto utilizzando tutti i giorni, stranamente. Io adesso metterlo in camera così, vabbò, proviamo. Comunque di solito lo metto prima del mascara, eh. Allora, io ho delle difficoltà con l'eyeliner per un po' di motivi. Uno è il mio occhio, la forma dell'occhio, tra la fine del mio occhio e l'inizio dell'arcata sopraccigliare. Non c'è spazio. In più, dove dovrei mettere l'eyeliner qua per fare la codina, ho anche un bel grano di miglio che mi fa sembrare il tratto una macchia, sporco. E quindi mi devo tenere in una certa posizione da questa parte, diversa rispetto a questa. E quindi viene tutto un po' strano, vengono... cioè, vengono gli occhi diversi, non c'è niente da fare. Comunque non so se avete notato con che facilità l'ho messo anche parlando. Ho fatto solo la coda, eh. Io non gli spestisco la banda di solito perché adesso di qua è più difficile. Ecco appunto. Perché già il mio occhio è incappucciato, lo andrei a rimpicciolire. Quindi mi accontento della codina. Che è la parte più difficile, però, da fare. Vedete che di qua è più dritto e di qua sale di più. Questo seguendo la forma del mio occhio. Però di qua sono costretta a farlo perché sennò sembrerebbe una macchia. Poi quello che faccio io è fare così con il dito. E questo dovrebbe assottigliare la codina. Alla fine, cioè, almeno. Vedo far così dappertutto. Anche Natasha Denona fa così e facciamo anche noi così. Ok, adesso qua rimane un po' di schifezza marrone di eyeliner che vado a togliere un attimo col pennello da fondo. Comunque, avete notato come ho fatto veloce e facile? Contate che l'ho fatto con una mano sola. Nell'altra mano avevo lo specchio della paletta, avevo la paletta in mano. Solo una mano per farlo. Senza appoggio. Io di solito mi appoggio con il gomito. La codina è venuta abbastanza bene. Non ho fatto casini. Tra l'altro, questo eyeliner qua è resistente all'acqua, al sudore, ma anche ai grassi, cioè agli oli. Sebo. Così almeno specificato sul sito. A me dura tutto il giorno, non sbava, non rimane lì, non sbiadisce. E a me piace un sacco questo colore. Ed è facilissimo da applicare. Mi piace veramente tanto. Non pensavo che avrei mai detto una cosa del genere di un eyeliner. Soprattutto io lo sto usando tutti i giorni, da una settimana. Cosa impensabile per me. E un'altra cosa su questo eyeliner. Costa pochissimo, qualche euro. È vero che su Stylevana bisogna fare un acquisto, per non pagare le spese di spedizioni, di, mi pare, 53 euro. Qualcuna di voi mi ha anche chiesto se su Stylevana c'è la dogana. Su Stylevana a me non è mai arrivata la dogana. Io ormai avrò fatto quattro ordini. Non è arrivata la dogana, però i tempi di spedizione non sono proprio brevi. Anche se devo dire che per questo Black Friday hanno fatto piuttosto in fretta ad arrivare a me. Cioè, ha fatto un pacco. Ha fatto piuttosto in fretta ad arrivarmi. Meno di due settimane. Però ci sono state delle volte che ci ha messo anche un mese e mezzo, se non di più. Questa comunque è Clio, il colore di matita labbra di Natasha Denona. Queste fanno parte della linea I Need a Nude Lip Crayon. E sono dei colori nuovi aggiunti da Natasha Denona. Ha fatto un altro tratto. Comunque, questo è il colore NP 0,5 Clio. NP sta a indicare il sottotono, cioè Neutral Pink. Se volete magari riuscire ad orientarvi meglio nelle colorazioni. A me piace tantissimo. E un marrone rosato, appunto. Sono morbidissime da applicare, ma poi durano tutto il giorno. Questo colore mi fa impazzire. È leggermente più scuro di Natasha. Volendo si può sfumare. Io adesso non lo faccio, tanto andiamo a mettere il rossetto. Anche lui, ve l'ho fatto vedere nel video haul. Mi piace tantissimo. Fa parte della nuova, più nuova linea di rossetti di Saint Laurent. Questi sono i Rouge Pourcouture. E questo è nel colore N12. Allora, vi ho detto che c'era penuria di colori per quanto riguarda questi rossetti. Ecco, ho visto su Sephora che invece ci sono molte più colorazioni rispetto a Pinalli. Dove l'ho preso io? Io l'ho preso in negozio. Magari online ce ne sono di più. Comunque, anche in questo rossetto qua, la N sta ad indicare il colore neutro. Scusate le labbra. Scusate le labbra mie di partenza, ma in questo periodo sono piuttosto nervosa. Quindi mi stacco le pellicine, poi fa freddo, cioè tutto. Comunque, questo è il colore. Il rossetto ha un finish satinato, abbastanza luminoso. Soprattutto all'inizio sono molto sottili, morbidi, si aggrappano bene le labbra. Il colore dura tutto il giorno. Poi a un certo punto questa sensazione di labbra nutrite svanisce e rimane il colore. Però questa sensazione di labbra nutrite dura parecchio e mi piace tantissimo. Mi piace il feeling che ho sulle labbra. Non le sento secche, pesanti, niente. È veramente bello. Mi piacerebbe prendere questa stessa formula in altri colori, perché questo per me è un nude, più o meno. È abbastanza intenso come nude. È un marrone leggermente rosato, però io ci vedo anche una punta di rosso. Se non vi piacciono i rossetti profumati, però lasciate perdere, perché ha un intenso profumo di fiori e frutta. Io preferisco i rossetti non profumati, però sui rossetti questa cosa non mi dà particolarmente fastidio. Dopo un po' non si sente più, però è parecchio intenso. Per quanto riguarda gli occhi, mascara bello, ma... Grano, su di me. Peccato, non ho sentito nessun altro a cui sia successa questa cosa e mi dispiace parecchio. Eyeliner, grande grande sorpresa, soprattutto per una capra come me con l'eyeliner. Ma il fatto che io questa settimana l'abbia utilizzato tutti i giorni vuol dire molto sulla facilità di utilizzo. Poi dura bene tutto il giorno. Palette occhi. Tasto non dico dolente, però io su questa palette ho cambiato idea, credo, 15 volte. Non la volevo prendere all'inizio, non era proprio nel mio radar. Poi l'ho vista dal vivo e ho visto tutti questi micro micro glitterini e ho detto wow. Non l'ho utilizzata subito perché volevo farvi close up, swatcharvela per farvi vedere bene le cialde come fossero, in tonse. E lì ho iniziato a pensare bah forse sono un po' troppo soft per me, poco luminosi e tutto. Poi l'ho provata. Allora, la prima volta che io ho utilizzato questa palette ho messo tutti i colori sulla palpebra. È venuto fuori un paciugo. Gli ho messi con il pennello e soprattutto lui con il pennello mischiato agli altri colori da questo effetto sporco, bianco sporco, che io non amo. Era veramente brutto. Non mi era piaciuto. Lui ho detto bah, ho fatto una cavolata. Poi ho provato ad applicarli invece con il dito, non mischiando tutti i colori. In questo modo a me piace. La trovo anche molto versatile perché appunto se si utilizza solo una di queste cialde su tutta la palpebra si riescono ad avere look abbastanza diversi. Questo argento, volendo giocarci un po' di più con questa palette, si può anche applicare nell'angolo interno come punto luce ed è un po' più giocosa come palette. Poi appunto nell'arima inferiore si può variare il colore da mettere. Se si vuole mantenere quello sulla palpebra dà un look più tranquillo, più sofisticato. Se invece cambiamo totalmente diventa anche qua un po' più giocoso come look. Dopodiché questa palette io non la consiglierei a chi è abituato ad avere una pigmentazione intensa nel matt oppure a chi è abituato a degli shimmer molto molto luminosi, molto ad effetto bagnato. Ecco questa non è una palette per voi. Questa dà un effetto sofisticato, più naturale, più elegante, meno luminoso. Non segnano assolutamente la palpebra, questi tre ombretti non c'è pericolo perché è una texture molto sottile, molto, con questi micro glitterini piccoli 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 che quindi non segnano assolutamente. Se devo trovarci qualcosa di simile penso alla formula di Tom Ford, la Wet n Dry, quella appunto asciutta bagnata. Quella ci assomiglia un po' come finish finale sull'occhio, però quella lì secondo me è ancora più sottile, un pochino più luminosa. Preferisco quella di Tom Ford e soprattutto se voleste approcciarvi a una palette di brand luxury quali Dior, Tom Ford, Yves Saint Laurent appunto o Tom Ford nella formula Wet n Dry oppure Yves Saint Laurent con le mini clutch. Secondo me quelle sono decisamente superiori, l'effetto luminoso sulla palpebra, l'effetto un pochino bagnato è più intenso rispetto a queste qua. Comunque non è una brutta palette, è una palette carina sì ma nel senso non so se tornando indietro la ricomprerei. Per quanto riguarda invece matita labbra, io le adoravo già queste matite di Natasha Denona. Guardando poi i colori sul sito stamattina, ne ho trovate altre due o tre che mi interessano ma sarà nel futuro. Il rossetto di Yves Saint Laurent a me piace tantissimo la formula, il colore l'avrei preferito un po' più nude, però mi piace tantissimo. Tant'è che penso di aver sviluppato una piccola ossessione per i rossetti di Yves Saint Laurent. Non solo in questa formula ma anche nelle altre un po' più vecchiotte ecco che erano già presenti sul mercato da un po' e ho paura che stia togliendo, spero proprio di no. Questo qua è appunto più luminoso dei The Bold che hanno il packaging al contrario, cioè il cappuccio nero e questa base dorata. Questo è più luminoso, anche gli altri mi pare siano satinati, però questi qua rimangono più luminosi e secondo me anche un pochino più idratanti sulle labbra dei The Bold. Con questo concluso spero di non avervi annoiato, anzi spero di esservi stata in qualche modo utile. Io vi ringrazio infinitamente della compagnia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!